Vittorio Brambilla, buonasera, prego, si accomodi Presidente dei Giori Imprenditori di Concommercio? Allora, si spende di più o si spende di meno? Ma, se parliamo del Natale, dobbiamo considerare che, come sempre, sarà un fenomeno a sé stanno. ...della valle, ma allora, il suo giudizio, prima l'abbiamo visto nel servizio dei date... Lenti è un amico di buon mattino, sicuramente. E allora, la sensazione qual è? Si spende di più o di meno? Ma la sensazione è che si faranno sicuramente... ...forte, ecco per un'idea, dottor Vesto. ...ha giustamente centrato... ...perché non sono, non accettano la cura fiscale. ...perché due terzi non hanno addevole... ...commerare dalla CMA, non è per 3.000, un momento solo, per favore, prego. ...commerare soltanto... ...quindi ne potranno stabilizzare, assumere, Caprambilla, tranquilli, non li stabilizzeranno. Ecco che grida ad un altro politico... ...o che sia un impazzimento natalizio. ...o gli stati impazzisci... ...o gli stati impazzisci... ...dice Trefiletti, che all'origine non è successo niente. ...l'arancia, eccetera, con i gamberetti che sono un prodotto della pesca e non è allevato. ...perché... ...come si fa a raffrontare l'anno scorso con l'anno in corso. ...perché la cosa più interessante, che poi interessa soprattutto alle famiglie italiane, è quella di verificare i prezzi al dettaglio. Ho capito, ma un prodotto della pesca, lei sa bene, che non è come se lei mi parla di un bovino che viene allevato, quindi ha delle logiche diverse, ma un prodotto della pesca è soggetto a mille e una. ...è il dato del Natale, Vespa? ...per Natale, la Natale... ...e poi diceva, beh, lo riciclo, cosa che non si dovrebbe fare assolutamente, però... ...è quello che riceve il regalo riciclato a sua volta. ...i prezzi degli affitti, perché molti hanno un capannone piuttosto che un esercizio in affitto. ...stavolta a naso ha ragione Trefiletti. ...100 lire nel 2001. ...no, gli americani hanno fatto il dollaro di carta, non si capisce. ...dottore Zanchino. ...dottore Zanchino.